Tonia, buongiorno, benvenuta a Reggio, ciao Lidia, benvenuta, facciamo doppia intervista così, visto che il tuo video è su, non è un problema, esatto, di chi è stata l'idea? Lei, colpa sua quindi? Sei pronta? Visto che è tua lega di essere la più pronta? Io sono la più pronta, vorrei essere la prima, sono carichissima. Ah, bene, guarda, secondo me sarai la seconda a uscire oggi. No, prima, prima. Prima? Allora andiamo, ah sì perché Lorenzo dopo, prima, via, 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 prima, tu, non lo so, tu sarai magari il terzo o quarta, ecco, non l'ultima, non l'ultima, non l'ultima, dovrai vedere tutti. Io non sono carica come lei. Ecco, da dove venite ragazze? Io sono diretta, tu, anche io, bravo, bravo, bene, quindi questa pazza idea l'ha avuta Tonia, quindi quando scenderemo vedremo se dirgli, brava Tonia, bella idea o Tonia, cosa hai fatto fare? Va bene ragazze, allora vi lascio con i vostri piloti, quindi Lorenzo e Cobra che finiscono di bragarvi per bene, noi ci vediamo in decollo, ci vedrai anche me, sono lì anch'io, dai, ok? Ciao ragazze, tra poco e divertitevi! E' in basso? E' in basso? Grazie! 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 E vai! Allora? Certo hai messo i pantaloni del colore giusto però va bene! Tutto a posto? Come è andata? Non possiamo sposare adesso! Vai alla grande! Il passo più difficile l'avete fatto! Brava Lidia! Grazie! Grazie!